In questo video parleremo come compilare la sezione per riguardante le precedenze. Abbiamo già visto video sull'anzianità di servizio, sulle esigenze di famiglia, sui titoli generali, sulla scelta di tipo di posto e sulle preferenze. Adesso parliamo delle precedenze. Abbiamo due tipi di precedenze. Abbiamo le precedenze ai sensi dell'articolo 13 del contratto collettivo integrativo di mobilità 2019-2022 e abbiamo poi le preferenze invece riferite all'articolo 23 dello stesso contratto. Sarebbero la precedenza 33, la precedenza 34 e l'altra precedenza del punto 34. Andiamo a vedere in ordine. Allora, andiamo a vedere la prima precedenza. Questa precedenza al punto 23, ci stiamo riferendo alle precedenze della scuola secondaria di secondo grado, è riferita al rientro nella scuola di precedente titolarità per il docente trasferito negli ultimi otto anni e che abbia, per motivi di sovrannumero ovviamente, che abbia richiesto per ogni anno il rientro nella sede di precedente titolarità. Dunque inserirà la provincia di riferimento, per esempio potrebbe essere Reggio Calabria, e poi l'istituto di riferimento scegliendo la scuola, per esempio nel caso mio, essendo un titolare del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, dovrei fare conferma per il rientro, se fossi stato docente sull'annumerario negli ultimi otto anni, il rientro nella mia scuola di precedente titolarità. Il tipo di posto per cui sono stato trovato sul numerario, per esempio il posto comune, il posto normale. E poi il punto 24 invece è la precedenza per i non vedenti, o il punto 25 per i docenti emodializzati. Il punto 26 invece si riferisce alla precedenza per una situazione di invalidità personale del docente, che ai sensi dell'articolo 21 della legge 104 deve avere una invalidità superiore ai due terzi, e dunque avere applicata almeno l'articolo 3,1 della legge 104, cioè essere persona disabile non di stato di gravità. Con queste due condizioni il docente potrà avere la precedenza del punto 26, sia provinciale e sia interprovinciale. Il docente al punto 27 usufruisce di una precedenza per il bisogno di cure a carattere continuativo in un dato preciso, in provincia e comune. Dunque se ha questa situazione dovrà mettere sì e usufruirà della precedenza. Chiaramente questa precedenza deve essere attestata con una certificazione dell'istituto di cura che tiene in cura il docente e soprattutto si deve dimostrare che nella sede di attuale titolarità non ci sia un istituto di cura che possa prestare le stesse cure al docente. Il punto 28 è la precedenza sempre per la persona che si trova però in uno stato di gravità, l'articolo 33,6 della legge 104,92. Cioè il docente deve essere in stato di gravità, cioè deve avere dalla commissione medica che lo ha visitato l'articolo 3,3, cioè lo stato di handicap con lo stato di gravità e allora potrà usufruire della precedenza. Nel punto 29 invece si parla della precedenza per assistenza a un familiare. Allora in questo caso si dovrà scegliere. I familiari a cui si può assistere sono il figlio, il coniuge e il genitore. Mentre per il figlio e il coniuge la precedenza vale sia nella fase 2 che nella fase 3, per quanto riguarda l'assistenza al genitore vale solamente nella fase 2, cioè nella fase provinciale, per cui si dovrà scegliere la provincia di riferimento. Per esempio, come facciamo l'esempio di Reggio Calabria, si sceglie Reggio Calabria. Dunque la provincia scelta Reggio Calabria e poi si sceglie lo stato di parentela. Se figlio si mette assistenza figlio, se coniuge assistenza coniuge, per il genitore si mette per esempio genitore. Ma attenzione perché questo tipo di assistenza, ripeto, vale solo a livello di trasferimento provinciale. Dunque per le preferenze interprovinciali l'assistenza al genitore non potrà essere utilizzata come precedenza. Tale precedenza interprovinciale per il genitore si potrà utilizzare solo nelle assegnazioni provvisorie, cioè nella mobilità annuale. Poi al punto 30 si passa proprio a un altro tipo di precedenza, che è quella dell'articolo 13,1.6. sarebbe il ricongiungimento al coniuge militare che ha avuto un trasferimento per motivi d'ufficio di lavoro. Dunque il coniuge può essere raggiunto attraverso la precedenza. Questa è una precedenza che vale sia nella fase 2 che nella fase 3, cioè anche quella interprovinciale. Nel caso il docente non avesse il trasferimento per mancanza di posti disponibili, potrà avvalersi di questa precedenza anche nelle assegnazioni provvisorie. Poi c'è il punto 31, cioè questa è la precedenza per mandato politico, cioè chi ricopre cariche pubbliche nell'amministrazione degli enti locali, tanto per dire fa il sindaco in un comune, oppure il consigliere comunale o l'assessore o appunto è un'amministrazione di un ente locale, un amministratore dell'ente locale, allora può godere della precedenza al punto 31. Questa è una precedenza che anche in questo caso vale sia per la fase 2 che per la fase 3. Poi c'è il punto 32, c'è la precedenza per chi termina l'aspettativa sindacale e rientra in servizio, dunque anche in questo caso c'è una possibile precedenza. Il punto 33 invece si riferisce all'articolo 23,15 del contratto di mobilità, cioè i docenti che hanno fatto tre anni di corsi serali, di servizio dei corsi serali, hanno la precedenza verso questo tipo di istituzioni. Stessa cosa vale per il punto 34, dove c'è la possibilità di avere la precedenza per chi ha lavorato per tre anni nelle strutture ospedaliere, godi di una precedenza verso questo tipo di scuole e anche per chi ha lavorato per tre anni nelle strutture carcelarie. Speriamo che questo video possa esservi utile, seguiteci ancora sul nostro sito www.technascola.it seguiteci anche sul nostro canale YouTube perché faremo altri video sulla mobilità. Vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie a tutti.